Romagna Sport primo dal 2001 la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti i primi a pubblicare la carriera degli atleti i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna in tutto Buonasera buonasera a tutti voi benvenuti a questa puntata speciale di fischio finale nella giorno di Pasqua insomma ci tenevamo a farvi compagnia anche quest'oggi a parlare un po' di quello che è l'oggetto comunque sempre delle nostre discussioni qui a quattro occhi sul palcoscenico di Teleromagna ovvero quelle puntate sui campionati di calcio che seguiamo con attenzione dalla prima giornata fino all'ultima e si è giocato in effetti in questo weekend di Pasqua hanno giocato i principali campionati professionistici tranne la serie B che giocherà domani nella giorno di Pasquetta ne parleremo in compagnia di mister Giancarlo Magrini ciao Giancarlo benvenuto ciao saluto tutti con molto piacere cercando di dare un sorriso a chi è malato chi non ha difficoltà a seguirci e chi ci vuole bene perché tanta gente ha dimostrato volerci bene il nostro lavoro assolutamente noi per questo li ringraziamo sempre col cuore e allora andiamo proprio a parlare come detto dei campionati pochi quelli che abbiamo a disposizione quest'oggi ma sicuramente visto che siamo ormai nella rush finale molto interessanti a cominciare dalla serie A che ha giocato tra venerdì e sabato il proprio turno di campionato rilanciando le quotazioni della Napoli andiamo a vedere i risultati con Atalanta Bologna 0 a 2 Fiorentina Spezia 1 a 1 Verona Sassuolo 2 a 1 Lazio Juventus 2 a 1 Lecce Napoli 1 a 2 Milan Empoli 0 a 0 Salernitana Inter 1 a 1 Sampdoria Cremonese 2 a 3 Torino Roma 0 a 1 Udinese Monza 2 a 2 e allora grazie alla regia andiamo proprio a vedere anche la classifica come detto non c'era bisogno chiaramente di rilanciare il Napoli che pure grazie ad un gol molto rocambolesco ha espugnato venerdì pomeriggio il campo del Lecce ha ripreso la propria marcia di avvicinamento a uno scudetto ormai vicinissimo seppur non è riuscita a distanziare ulteriormente la Lazio che si è aggiudicata ieri sera il big match contro la Juventus e trascinata da un romagnolo nativo di Cesena cresciuto nel vivaio del Bellaria parliamo di Mattia Zaccagni miglior marcatore del campionato di Serie A per quanto riguarda i giocatori italiani giocatore ormai che anche Roberto Mancini a nostro avviso deve prendere in considerazione ma questo è un campionato in cui la geografia è cambiata rispetto al passato comanda il centro sud Italia perché il Napoli è primo, la Lazio è seconda, la Roma conferma un terzo posto scavalcando il Milan allontanandosi dall'Inter con la vittoria firmata dal rigore di Dybala in casa del Torino mentre invece le milanesi distratte dai propri problemi e anche dall'imminente impegno di Champions League avevano pareggiato i rispettivi incontri l'Inter raggiunta in maniera beffarda dall'ex Candreva con un tiro cross per meglio dire un cross tiro visto che Candreva stesso lo ha precisato nella match come detto in casa della Salernitana il Milan che non ha sfondato contro l'Empoli e poi la caduta dell'Atalanta è caduta contro chi? Contro il Bologna, vera e propria sorpresa, vera e propria squadra, rivelazione di questo campionato tornato a meno uno il Bologna dalla Juventus e andato a meno cinque proprio dall'Atalanta insomma la squadra di Motta crede nella possibilità di giocare in Europa e infine in zona salvezza la vittoria più importante è quella in rimonta ottenuta dalla Cremonese contro la Sampdoria e poi allora come detto niente Serie B andiamo allora in Serie C andiamo a vedere quello che è un campionato ormai forse dei rimpianti seppur il Cesena continui ad avere anche la chance aritmetica di credere nel primo posto allora la terz'ultima giornata, questi verdetti Alessandria, Ancona 3 a 0 Lucchese, Entella 0 a 0 Ponte d'Eram, Aquila, Montevarchi 2 a 0 Re Canatese, Olbia 2 a 3 Reggiana, Fermana 4 a 2 Rimini, Fiorenzuola 1 a 1 Cesena che dilaga in casa del San Donato, Tavarnelle 6 a 1 per i bianconeri e invece Siena-Gubbio 2 a 2, Torres, Carrarese 1 a 1 Vispesaro-Imolese 1 a 0 Vediamo allora questa classifica che rilancia totalmente la Reggiana fino a domenica scorsa era in seconda posizione perché raggiunta da Lentella con gli scontri favorevoli, quelli diretti per i Liguri ora invece a due giornate dalla fine Reggiana Capolista, più 2, destino per la promozione diretta nelle proprie mani per raggiungere anche il Feralpi Salò che ieri ha ottenuto una storica promozione in cadetteria Reggiana più 2 sull'Entella a più 4 però su una Cesena che sale a meno 2 dalla seconda posizione con la goleada inflitta al San Donato Tavarnelle e poi il Rimini che ancora non riesce a vincere ma che per paradosso si prende un vantaggio rispetto alle due inseguitrici dirette parliamo di Fermana e Recanatese entrambe sconfitte entrambe al momento fuori dalla zona playoff mentre invece il Rimini pur contestato da parte della sua tifoseria ha ottenuto un'ulteriore lunghezza di vantaggio e poi Limolese che ha ricevuto proprio nel giorno in cui ha perso contro la Vispesaro la penalizzazione di due punti Limolese dunque che scende da 32 a 30 ma rimane comunque con una vittoria di vantaggio sull'ultima posizione quella dell'Aquila Montevarchi che lo ricordiamo decreta la retrocessione e infine chiudiamo il nostro brevissimo giro d'orizzonte spostandoci nel girone D di serie D brutti risultati per le squadre romagnole vediamoli però Aglianese Forlì 1 a 0 Correggese United Riccione 2 a 1 Corticella Pistoiese 2 a 1 Crema Gianerminio 1 a 3 Fanfulla Mezzolara 1 a 1 Lentigione Prato 2 a 1 Ravenna sconfitto dalla Bagnolese per 1 a 0 Real Forte Querceta Salso Maggiore 4 a 0 San Maurese Sant'Angelo 0 a 1 Scandicci Carpi 1 a 1 Questi come detto i risultati insomma quattro sconfitte per le romagnole tutte di misura e tutte davvero da mangiarsi le mani per un campionato che vede l'incredibile sorpasso della Gianerminio che si è giudicata il posticipo in casa del Crema approfittando della caduta della Pistoiese più due ora per la Gianna che aveva dominato il campionato per quasi tutta la sua lunghezza Terzo posto confermato dal Forlì che però vede un po' avvicinarsi il Carpi con appunto il Carpi che si aggancia al Ravenna quota 52 punti spingono però attenzione anche le stesse Real Forte Querceta e Corticella alle spalle delle due romagnole non ancora sicure della propria presenza nei playoff ma sicuramente fuori dalla zona playoff United, Riccione e San Maurese rispettivamente a quota 47 e 46 punti e allora fermiamoci per una brevissima sosta tra poco entriamo in clima serie C e ci andiamo a vedere sette gol di cui sei bianconeri quelli ottenuti dal Cesena nella trasferta di Montevarchi in casa della San Donato Tavarnelli Regia In cucina come per l'amore gli abbinamenti fanno la differenza per questo torno sempre dalla capannina e la tramonteria all'osteria la capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente condito dal più suggestivo dei panorami le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa della tramonteria invece adoro la pizza l'unica che mette d'accordo tutti la capannina e la tramonteria l'abbinamento perfetto in tavola prenota anche tu allo 0547 66 61 01 te ne innamorerai Ideal System specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali impiantistica, strutture metalliche porte e piani di carico tamponamenti e coperture un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore le più innovative tecnologie al servizio del cliente con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo Ideal System con sede a Cesena opera su tutto il territorio nazionale e all'estero Ideal System soluzioni ideali per sistemi industriali E allora come anticipato abbiamo introdotto un po' la vittoria del Cesena insomma una vittoria a metà confortante per la prospettiva playoff ormai quasi certezza ma anche un po' che lascia qualche puntina di amare in bocca per quello che poteva essere e non è stato avere un Cesena che non è riuscito a entrare nella corsa per la promozione diretta Comunque si ha una vittoria rinfrancante per la squadra di Toscano il 6-1 in casa del San Donato Tavarnelle Regia Quattro punti separavano il Cesena dalla coppia al vertice alla vigilia della trasferta di Montevarchi Tana del San Donato Tavarnelle un distacco consistente visto che ormai siamo agli sgoccioli ma i bianconeri non volevano gettare la spugna sperando in qualche risultato favorevole dagli altri campi San Donato che ci prova però per primo al quarto minuto di gioco subito un'occasionissima con Carcani che spara un sinistro strozzato dunque Cesena che rischia qualcosa ma poi prende definitivamente in mano il match un minuto più tardi con questo gran gol la conclusione vincente di Adamo dopo il dialogo con Corazza nulla da fare per il portiere Cardelli Cesena che mette subito sui binari giusti il match in uno svarione comunque collettivo della difesa del San Donato che non si aspettava questo dai e vai una Cesena che non si accontenta e anzi ancora a distanza di un minuto il contatto in area di rigore fra Rossi e Saber Rayek calcio di rigore lo rivediamo l'intervento in netto ritardo proteste timide per il San Donato dal dischetto per difendere la propria poltrona da capo cannoniere c'è Corazza che segna Corazza che verrà anche raggiunto dalla doppietta di Ragazzo in cima alla classifica dei marcatori ma comunque si ammette al riparo il risultato e poi inizia lo Steven Spendishow conclusione out di un soffio per lui alla mezz'ora invece il gol che riapre l'incontro con Calamai punizione vincente conclusione che buca definitivamente la barriera non serve neanche il coccodrillo sceglie l'angolo giusto San Donato che ci crede ma Cesena implacabile inizio ripresa dopo appena due minuti la conclusione vincente di Steven Spendi un'azione una serpentina ubriacante per lui finalizzata nel migliore dei modi 3 a 1 per il Cesena e con il gioiellino che non si ferma più dodicesimo centro in questo campionato Steven anche egoista però al 55esimo lo vediamo con Corazza che sostanzialmente allarga le braccia voleva l'assist voleva la doppietta per lui sarebbe stata anche la scelta più opportuna ci pensa però Bumbu entrato da pochi minuti per firmare anzi no chiedo scusa Bumbu che era titolare Bumbu che firma però il gol che vale il 4 a 1 e poi anche il gol del 5 a 1 colpo di testa per lui e assist da rimarcare del rientrante Zecca insomma un Cesena che sta trovando le forze le energie per affacciarsi alla corsa per i playoff e poi anche il 6 a 1 Silvestri in cornata vincente stacco che sovrasta comunque una difesa ormai inesistente del San Donato Tavarnelle e poi ancora il San Donato che deve difendersi un Cesena che ottiene la vittoria più larga possibile immaginabile il 6 a 1 in casa del San Donato sale a meno 2 dal secondo posto tutto ciò come detto a Montevarchi siamo con Giancarlo Magrini e parliamo allora di questo Cesena dicevamo più il rammarico per quello che poteva essere e non è stato o comunque indicazioni importanti perché adesso si parla dei playoff servirà la massima forma per la squadra bianconera guarda per dire la verità metto questo perché sono un po' ecco tanto non credo che sia pubblicità assolutamente un po' d'acqua non fa mai male ecco e nel momento forse peggiore quando facevano la corsa perché la squadra aveva fatto molto bene avevano lavorato bene si sono sentiti un po' troppo sicuri e quella diciamo così telaio della squadra che è stato formato era forse anche logico che avesse un attimo di calo l'ha avuto in un momento forse migliore nostro peggiore loro che nessuno se l'aspettava perché diciamo che questi hanno fatto il risultato ma l'hanno fatto con abilità con distrezza con gioco e non si può dire niente si può solo dire che noi abbiamo creato molto però finalizzazione poca siamo nell'ultimo passaggio non è mai arrivato quando è arrivato è arrivato o troppo alto o troppo basso la palla corte insomma non c'era quella armonia quella abilità che facevano che ho visto anche pari di allenamenti ultimamente perché qualche problema prima tutto saltarli e devo dire che ero convinto perché fuori c'era gente importante che dimostrava in allenamento dei valori importanti e dire spesso secondo il mio modo di vedere dall'angolo dietro la rete meccalica per parlare in chiaro io penso che il ministro abbia avuto veramente delle grosse difficoltà nelle scelte ed è stato bravissimo nella scelta del giovane giovane oggi che è un capocannoniere parlando non è un gol in più un gol in meno ma è anche un capitale di società importante appena rinnovato proprio in settimana ed ha la spinta secondo me anche al settore giovanile anche perché so che i due presidenti perché sono due stanno lavorando a lungo e a largo qualche volta ho scambiato anche io qualche parola vedo un grosso entusiasmo e adesso è arrivato il punto che non possiamo più girarsi dietro dobbiamo solo guardare avanti che noi abbiamo un obiettivo che non è la strada ma è un'autostrada e non possiamo assolutamente per quello che fa Cesena e per quello che fa la nostra società e il pubblico perché trovarsi sempre sulle 10.000 persone in media delle partite in casa sfido chiunque ormai anche alla metà della serie A che non c'è e credo che il primo migliore sia quello della vincita dove la società nuova ci crede ciecamente anche perché per chiudere proprio il discorso del Cesena c'è il precedente dell'anno scorso della Palermo giunto non nelle prime due posizioni la prima che dà accesso immediato alla serie B e la seconda che dà diritto ad accedere alla seconda fase dei play-off nazionali insomma una precedente benaugurante per i bianconeri in vista dei play-off mentre invece noi adesso volgiamo lo sguardo verso un altro spicchio di Romagna quella bianco-rossa del Rimini un Rimini che in questo girone di ritorno ha sicuramente stentato e non poco ma che con il Fiorenzuola stava esprimendo il miglior calcio della sua stagione prima però di ricevere l'ennesima beffa vediamoci allora insieme questo Rimini Fiorenzuola uno a uno e dunque il conforto dei risultati era venuto a mancare per il Rimini che nel ritorno ha compromesso in gran parte quanto fatto nella prima parte del campionato con un bottino di appena due vittorie nelle 16 partite precedentemente disputate peggio aveva fatto solo proprio il Fiorenzuola balzato dalla prima posizione alla difesa della categoria una sola vittoria nel girone di ritorno come detto però è un Rimini fiammeggiante quello che scende in campo al neri con Gabbianelli che al settimo ci prova libera il sinistro out all'ottavo invece l'episodio che sblocca la partita il cross di Tonelli in area di rigore una mischia che viene risolta da Delcarro conclusione vincente ottavo gol stagionale per un attaccante più che centrocampista di primissimo piano per il Rimini un giocatore decisivo come il cannoniere Santini un gol da opportunista come vediamo bravo a controllare il pallone bravo a battere il portiere battaiola 1-0 ma Rimini che non si adagia sugli allori siamo al tredicesimo Averi apre per Gabbianelli tiro cross non ci arriva Vano e poi ancora sempre nello stesso minuto ancora il Rimini altra conclusione pericolosa la risposta in due tempi di Battaiola su Laverone sedicesimo crossa dalla sinistra palla che arriva in area di rigore controllata per un attimo poi ancora Laverone che alimenta l'azione prova il replay dell'azione precedente e trova ancora quello che è stato il migliore in campo il portiere Battaiola siamo al diciannovesimo come vediamo non si ferma più i Rimini del carro sfiora la doppietta c'è la risposta di Battaiola c'è la possibilità però dalla parte opposta la prima chiamata alle armi della Fiorenzola con Gianni colpo di testa a lato e poi ventisettesimo minuto crossa ancora per i Rimini palla in area e non si sa come non si è entrata del carro trova ancora sulla sua strada Battaiola siamo adesso al ventisettesimo altro squillo del Fiorenzola che fa capire di non essere uscito dalla partita Sereni Lex calcia alto e poi ancora Rimini con Piscitella che fa tutto bene tranne l'ultima cosa una conclusione che coglie l'esterno della rete spostiamoci facciamo un salto gigantesco nel secondo tempo sessantottesimo il ritmo del match è crollato verticinosamente Rimini che fallisce l'ennesima chance per il 2 a 0 con Mencagli Fiorenzola allora capisce che c'è la possibilità di uscire indenni da questo match Fiorini rasoiata a lato e poi ancora la possibilità per il Fiorenzola azione lunghissima con la palla che resta viva per Sereni crossa al centro sfonda in area di rigore e da lì non può sbagliare Bondioli il pareggio della Fiorenzola che dunque strappa un punto pesantissimo perché nel quarto d'ora successivo il Rimini non avrà più le forze per superare l'ostacolo rappresentato dagli emiliani il pareggio che scaturisce dunque è quello per 1 a 1 fra Rimini e Fiorenzola e beh mister abbiamo visto una mezz'ora in cui il Rimini sembrava tornato quello del primo della girone di andata poi però i soliti guai per il Rimini e una squadra che sembra aver esaurito le risorse e le energie nella ripresa io direi che è giusto quello che hai detto secondo momento che è quello delle energie la squadra era partita bene dopo 20 minuti ha trovato anche un gol in una misca che comunque era convinta perché aveva già fatto 3-4 azioni di un buon livello sbagliando sempre ancora una volta perché lì la squadra era da mettere campo in su con un po' di età poi avevano trovato Pissetella che c'era rimediato che era il momento quella partita lì non è stato all'altezza della situazione che aveva fatto vedere in più palla lunga pedalare non è che ha dato una mano perché gli altri si sono chiusi molto bene squadra che ha fatto un classico 4-4-2 con un'attenzione importante è stato un momento che potevano anche vincere la partita però i Rimini ha 4-5 giocatori in un livello buono e la settura è veramente valida pur mancando di qualche giocatore di spessore ha fatto il massimo pur giocando ripeto malissima perché è stata una partita sporca partita aggressiva sono state mi sembra 8-9 espulsioni tra 4 espulsi e 5 espulsi tra dirigenti 4 giocatori insomma tosta il risultato pesato dopo 1-1 è andato bene per tutte e due ecco eh sì effettivamente è giusto quello che dice mister Magrini perché il Rimini con questo pareggio ha comunque sia aggiungato su Fermana sconfitta dalla Reggiana e la stessa Re Canatese sorpresa dall'Olbia insomma adesso ci sono tre punti da difendere nelle ultime due giornate seppur un calendario che si fa subito in salita perché nel prossimo appuntamento ci sarà la trasferta di Ancona un match che richiama anche brutti ricordi sicuramente datati tra cui la retrocessione dalla Serie B alla Serie C di molti anni fa e allora tutto ciò nella prima parte della nostra trasmissione tra poco la seconda e ultima in cui continueremo il nostro viaggio nella Serie C andando a vedere la sconfitta del limolese poi per meglio dire le sconfitte in serie di tutte le romagnole nel campionato di Serie D regia la commerciale agricola di Billy Giovanni SPA punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole industriali e per il giardinaggio concessionaria New Holland rivenditore dei più importanti marchi la nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento automezzi per trasporti anche eccezionali tecnici altamente specializzati fornitissimo magazzino di ricambi originali disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate controllate e garantite un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica fiscale assicurativa e finanziaria la commerciale agricola di Billy Giovanni SPA sede a fornivi a Dragoni 114 filiali Rimini Fano www.lacommercialiagricola.com Gusta la genuinità dei prodotti della centrale del latte di Cesena come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano due formaggi DOP prodotti con cura e passione usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine entrambi premiati dalla Guida all'Espresso i formaggi d'Italia premiati anche tu gustando i formaggi DOP della centrale del latte di Cesena il buono della tua terra dal 1959 e allora siamo di nuovo collegati con Fischio Finale siamo come detto nella seconda parte della nostra trasmissione quella in cui continuiamo il nostro viaggio in quelli che sono stati gli incontri del campionato di Serie C giunto alla sua terz'ultima giornata abbiamo detto della vittoria Tonitruante del Cesena del pareggio Beffardo da un certo punto di vista del Rimini e beh di Beffa si può parlare duplice per quanto riguarda l'imolese sconfitta dalla Bispesaro e anche penalizzata di due punti in classifica insomma un imolese che sembra ormai condannata a fare i play out ma che comunque si avanta ancora tre lunghezze di vantaggio sull'Aquila Montevarchi nella corsa per non retrocedere direttamente vediamo allora queste immagini vediamo Bispesaro Imolese 1 a 0 si gioca dunque tra Bispesaro e Imolese un match che mette in palio punti vitali per rimanere nella campionato di Serie C due squadre che lottano per lo stesso obiettivo anche se la brutta sorpresa della penalizzazione aveva condizionato il prepartita dell'Imolese che infatti è apparsa abbastanza scarica nell'approccio al match del Benelli quarto minuto subito a sfiorare il vantaggio la Bispesaro con questa conclusione che dà solo l'illusione del gol quella di Di Paola ma l'appuntamento è solo rimandato di appena un minuto mentre invece vediamo il pubblico di casa che sostiene la causa della Bis calcio d'angolo per la squadra padrona di casa colpo di testa Molla non certo preciso su Tonucci e allora Pucciarelli da sottomisura non può più sbagliare 1-0 sarà il gol partita sarà dunque un gol pesantissimo perché la Bispesaro metterà saldamente le mani sul match vediamo proprio come Molla abbia respinto in malo modo questo colpo di testa dell'ex Cesenate Tonucci e poi sottomisura con qualche rischio perché Molla c'era arrivato ma non poteva fare di più Pucciarelli dunque segna l'1-0 un inizio di match come detto in salita per Limolese che prova a scrollarsi di dosso l'apatia dei primi 20 minuti al 23esimo con questo pallone alzato a campanile alla fine la possibilità che viene creata per un tiro comunque sia non certo irresistibile quello di Zanon primo tempo che vive di ben poche fiammate siamo al 38esimo calcio d'angolo per la Vispesaro palla che resta ancora nella disponibilità dei biancorossi con Valdifiori che mette al centro un cross colpo di testa difedato sul fondo andiamo allora avanti con gli nostri highlights nella ripresa siamo al cinquantesimo minuto con quest'azione che sembra interessante per Limolese c'è l'uno contro uno c'è la scelta del diagonale sul secondo pallo di Dauria chiuso però in corner in secondo tempo che vive di ben pochi brividi più che altro noia per quanto riguarda questo incontro spostiamoci al 69esimo minuto Limolese ci prova ma è una conclusione tutt'altro che pericolosa molto pretenziosa per meglio dire quella di Tulli alta sulla traversa e anzi l'ultima chance all'ottantaduesimo è per la Vispesaro altro corner di Val di Fiori altra stoccata questa volta dalla distanza di Sinclair facile in questo caso la risposta della portiere molla ma è una conclusione che comunque sia non cambia più il senso di un incontro ormai destinato a chiudersi in questa maniera con una sconfitta per Limolese sul campo della Vispesaro col punteggio di 1 a 0 hai avuto e hai tanti anni di esperienza d'allenatore è difficile tenere magari il gruppo unito quando ricevi una brutta notizia dal punto di vista sportivo sia ben chiaro cioè la penalizzazione proprio alla vigilia della match cioè nella stessa giornata nel pomeriggio prima che si inizia a giocare può aver influito anche questo aspetto su una prestazione comunque deludente degli imolesi infatti secondo me sarebbe più giusto che in queste definizioni che devono trovare il risponso di quello che è stato successo o succederà non so come era da fare entro martedì c'è la possibilità di ragionare di parlare di recuperare la fai al giovedì al venerdì ti trovi che c'è un giorno solo di allenamento vai a giocare una partita che è decisiva per la salvezza più o meno per il play out insomma non è facile diciamo per gli altri è caricare tanta roba e marciare perché sanno che comunque sono già partiti con una vittoria in elangolino e mentre questi sanno che non possono perdere però basta un episodio non felice che ti fa andare a casa sconfitto come è successo una sconfitta dunque che come dicevamo non cambia eccessivamente il percorso degli molese io se la regia è d'accordo darei ancora un'occhiata alla classifica del campionato di serie C prima proprio di immergerci nel clima della serie D per vedere come si affacciano dunque le romagnole nella nella rascia finale nelle ultime due giornate come detto il Cesena classifica alla mano potrebbe ancora sperare in un clamoroso primo posto ma dovrebbe sostanzialmente sperare più che altro nei guai altrui e fare sei punti il bottino pieno nelle ultime giornate oppure farne quattro e agganciarsi alla reggiana avendo scontri diretti però in perfetto equilibrio insomma calcoli che al momento non sono di attualità il Rimini che occupa la parte sinistra della classifica l'ultimo posto utile per la zona playoff con però tre punti di vantaggio su Fermana e Recanatese ma vanno difesi negli ultimi due turni e poi Limolese che deve stare attenta ormai a prepararsi al meglio per i play out ma evitare il possibile ritorno in extremis dell'Aquila Montevarchi a sua volta staccato di tre lunghezze tutto ciò allora sul campionato di serie C che continueremo a seguire già a partire da domenica prossima nella puntata in cui parleremo a fischio finale dell'imminente derby invece di serie D quello tra Forlì e Ravenna importantissimo decisivo soprattutto dopo questa sconfitta dell'Imolese del chiedo scusa del Forlì in casa dell'Aglianese sconfitta rimediata di misura col punteggio di 1 a 0 vediamo allora gli highlights un Forlì in cui era scattato più di qualche campanello d'allarme dopo il KO casalingo con la Correggese e un Forlì che voleva riprendere la propria marcia sul campo dell'Aglianese ma in un match che sapevano i biancorossi essere molto complicato Aglianese che ci prova per prima al terzo minuto di gioco con questa punizione scodellata da Mattiolo in area di rigore nessun problema per Ravaioli ci prova poi Conigni dalla parte opposta per il Forlì un Aglianese a sua volta pericolosa con Mariani conclusione respinta in corner dal corner colpo di testa effettuato da Torrini abbondatamente sul fondo dalla corner ma dalla parte opposta l'uscita un po' alla disperata di Spurio che smanaccia in out il pallone poi si spostiamo al 41esimo dopo il contatto fra Prati e Variale calcio di rigore assegnato dal direttore di gara ma proprio Variale trova sulla sua strada Spurio che salva la porta dell'Aglianese mantiene il punteggio sullo 0 a 0 e a inizio ripresa rigore sì ma per l'Aglianese fallo di Piva su Bigica calcio di rigore per i padroni di casa l'angolo è vincente quello che viene scelto da Desa Castilla Vabdabal 1 a 0 per l'Aglianese contro il Forlì un gol che sostanzialmente taglia le gambe alla squadra ospite alla squadra romagnola infatti è l'Aglianese a sfiorare il bis con Mattiolo che coglie il palo ma c'era anche fuori gioco Ciccio Ciccio Baiano sulla panchina dell'Aglianese non sta più nella propria pelle vuole assolutamente portare a casa questi tre punti che si avvicinano sempre di più tocco sul fondo per l'autore dei gol lo vediamo uscire proprio De Sagastidabal dal terreno di gioco complimentato anche dal suo mister e poi l'ultima chance è solo potenziale per il Forlì su questo corner perché non c'è più tempo il match che dunque va in archivio con questa sconfitta rimediata dal Forlì contro l'Aglianese prima di tanti altri risultati negativi per le squadre romagnole 1 a 0 per i neroverdi ai danni dei galletti Giancarlo abbiamo detto dei guai che stanno vivendo un po' Rimini e Imolese che si sono un po' fermati in Serie C anche il Forlì si può dire adesso nel girone di ritorno ha faticato e non poco dopo aver tenuto il ritmo addirittura del duo di vertice Pistoiese e Gianna Erminio è una Forlì che vedi un po' incalando in queste ultime settimane il discorso solito quando hai fortuna è anche l'abilità che ha avuto Graffieri a portare una squadra così giovane con l'appoggio della società sicuramente con un grosso entusiasmo e hanno tra quattro ragazzi importanti di là del portiere di ritorno penso che Leonori sia un giocatore di grosso valore perché copre diversi ruoli e già personalità a un 2004 mi ricordo bene che alcuni a Forlì mi hanno detto ma secondo me ancora no non è ancora niente è chiaro che è giovane il vantaggio è suo però due anni fa e l'anno scorso su Prati parlavo uguale Prati non è che parlo avanti controllo attentamente ho visto anche un paio di allenamenti con un valore enorme con 4-5 ragazzi del 1984 e del 1985 molto buoni in più mi sento di dire che fuori nella limone hanno un ragazzo di un grosso valore che si chiama Marangoni che viene anche ha fatto anche il gioco nel Bologna eccetera ha girato fisicamente già pronto già l'hanno portato a fare qualche allenamento penso che sia anche un'altra pedina che nel futuro possa dare una grossa mano a questi giovani del Forlì il Forlì che pur nelle difficoltà resta in terza posizione avvicinato in questo caso dal Carpi sempre a più uno sul Ravenna questo potrebbe essere lo scontro nel playoff ma ancora ci sarà tanto da vedere anche per quanto riguarda proprio i giallorossi che dopo il nostro ultimo break andremo a scoprire come abbiano incassato una sconfitta casalinga nel match contro la Bagnolese e allora ultimo break ultima sosta e poi di nuovo insieme Sac Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia realizza impianti a GPL domestici a vicoli e industriali eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente Sac Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano Sac Petroli la concessionaria Enigas GPL più dinamica d'Italia Ciao sono il dottor Matteo Lazzarini mi sono laureato in odontoiatria nel 1997 e in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci come la TAC con BIM il microscopio il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà e allora non andare all'estero a curare il tuo sorriso scegli i medici italiani scegli noi vieni a trovarci e insomma dicevamo una sorta di valle di lacrime per quanto riguarda il turno che si è disputato in Serie D per le squadre romagnole tutte uscite sconfitte non ha fatto eccezione come detto neppure il Ravenna battuto in casa dalla Bagnolese con il punteggio di 1 a 0 andiamo a vedere il servizio sul match il ritrovato feeling col Benelli aveva prodotto ben 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite disputate dalla Ravenna di fronte al proprio pubblico i giallorossi di Mister Gadda puntavano dunque alla cinquina contro la Bagnolese avversaria precipitata in zona retrocessione diretta in questo girone di ritorno seppur a reduce però da un buon momento nell'ultima fase del campionato andiamo allora al decimo minuto di gioco con Ravenna che apre l'azione con Spinosa che offre a Lisi l'assist tiro giro però col giro sbagliato verso il fondo e poi la grande opportunità con Marangon la risposta del portiere Giaroli per la Bagnolese che evita il gol anche sulla successiva azione firmata da Abbey la risposta del attentissimo portiere ospite proprio Abbey esercita un retropassaggio che mette però in difficoltà Venturini non sarà la prima non è la prima ma soprattutto non è neanche l'ultima volta in cui il portiere si mette un po' nei guai da solo qui sventa comunque sulla conclusione di Zvetkov che sfiora il vantaggio Ravenna che forse da questo episodio prende paura Marangon conclusione debole per lui e poi l'ingresso in area di rigore di Abbey fa tutto bene mette il pallone sul sinistro alla fine dopo la respinta sbaglia Spinosa siamo adesso al 46esimo del primo tempo ancora un'azione praticamente identica a quella di prima Venturini questa volta regala letteralmente il pallone a Zvetkov che la seconda volta non sbaglia il vantaggio della Bagnolese ai danni del Ravenna firmato dal gol di Zvetkov il nono stagionale esulta come CR7 ma approfitta come detto di un errore grave dell'estremo difensore che prima era stato graziato siamo allora nella ripresa primi 20 minuti in cui Ravenna non riesce a sfondare lo fa al minuto numero 27 con questo cross di Melandri sul secondo palo in ritardo però Lisi Ravenna che sale di giri con questa azione sulla sinistra promossa da Dorsi per una conclusione di Capecce alta però una conclusione per lui che non trova il bersaglio grosso poi Melandri Marangon e la grande risposta di Giaroli decisivo su questa conclusione che sembrava destinata al fondo della rete intervento strepitoso per lui ancora in attacco il Ravenna ancora con Marangon sbaglia questa volta però il suo diagonale troppo debole Ravenna che meriterebbe il pareggio per quanto prodotto Capecce conclusione centrale su punizione e poi l'ultima chance siamo al 94esimo sbaglia questa volta l'uscita Giaroli e poi rimedia colpetto evitando il gol di Melandri un Ravenna che a questo punto non ha più chance è costretto a incassare il KO 1-0 rifilato dalla Bagnolese insomma Giancarlo grave errore del portiere recidivo un passaggio completamente sbagliato nel calcio di oggi ormai giocare con i piedi per i portieri come effettuare parate aggiungere un difensore assolutamente volevo dire di prima che mi ha sfuggito parlando e volevo dire del regista della Correggese che è Manuzzi che è uno Cesenate soprattutto è un mancino un sinistro con una grossa personalità ha fatto un gol di un valore enorme era piccolino fisicamente è cresciuto perché la storia che uno sia piccolo un po' meno grande conta poco conta saper giocare conoscere bene il ruolo essere presente nel momento giusto quanto è giusto perciò io ho detto questo di l'anore e io non ho detto questo oltre a Manuzzi Marangon che è il difensore centrale classe 2005 sostanzialmente mister Magrini ha giocato d'anticipo perché ha parlato di Manuzzi della Correggese e noi andiamoci a vedere proprio Correggese contro United Riccione perché questa è la terza sconfitta che vi segnaliamo quest'oggi per quanto riguarda l'ultimo turno della serie di vittoria della Correggese che allontana l'obiettivo dei playoff per lo United Riccione e dopo aver battuto a domicilio il Forlì la Correggese puntava al bis nel match casalingo contro lo United Riccione dal canto suo la squadra di Mister Gori non aveva ancora smaltito la delusione per il successo sfumato proprio sui titoli di coda contro la San Maurese e dai titoli di coda ai titoli iniziali del match primo minuto Bellini suggerisce per D'Antoni vantaggio dello United Riccione in casa della Correggese miglior inizio non poteva esserci per la squadra romagnola che deve però subito sostenere la reazione della Correggese con questo cross per Iaquinta palla sul fondo spostiamoci allora al 37esimo minuto con Simoncelli che opera sulla tre quarti palla che arriva al centro l'inserimento vincente per Carrasco il pareggio dunque della Correggese segna e si fa male esulta zoppicando ma comunque sia continuerà a giocare nel proprio match aveva dovuto superare letteralmente il portiere in un'azione di sfondamento non è finito però perché al 45esimo la Correggese continua a spingere Simoncelli toccato duro da Lord chi panizze per l'arbitro è rigore trasformato proprio da Manuzzi il 2-1 della Correggese ai danni dello United Riccione il gol che stravolge un match che si era messo benissimo per lo United che nella ripresa faticherà e non poco ci prova prima a cavallare poi il contropiede con Janken quasi a tu per tu col portiere lo raggiunge chiude tutto però pezzolato evita il possibile tris della Correggese United dalla parte opposta con Ferrara che fa tutto da solo ne salta uno ne salta due esplode un destro per poco non trova il gol coronando una grande azione Ferrara ma United che si espone a dei contropiedi sempre micidiali della Correggese sempre con Janken che qui mette letteralmente a sedere il difensore sdraia letteralmente il giocatore dello United diagonale a fil di palo palo dunque in out per la Correggese ancora speranza per lo United Riccione con questa conclusione out di Gambino un sinistro che termina sul fondo e poi siamo giunti nei minuti di recupero ormai ultima chance vera e propria con questo colpo di testa di Bellini che viene intercettato dall'estremo difensore di casa che mette poi fuori il pallone per permettere i soccorsi ad un suo compagno di squadra dalla parte opposta la Correggese deve solo attendere il momento giusto per perfezionare un'altra vittoria ai danni di una squadra romagnola il punteggio è sempre lo stesso Correggese che si impone sul 2-1 e allora prima di fare un ultimo commento sulle ultime due partite vediamoci anche grazie all'aiuto di Luca Leoni il match fra San Maurese e Sant'Angelo anche in questo caso sfortunato per i colori romagnoli San Maurese battuta in casa sull'1-0 Il rocambolesco pareggio agguantato in extremis nel derby contro l'Avinate di Rizzone ha acceso gli entusiasmi in casa San Maurese riduce anche dal pesante capò inferto alla Zanerminio nella giornata precedente dopo le fatiche del Nicoletti gli uomini di Mister Martini tornano al Macrelli per il turno prepasquale per affrontare il Sant'Angelo a ridosso della zona play-out e che arriva dallo 0-0 interno contro l'Aglianese direzione della gara affidata al signor Petraglioni di Termoli andiamo dunque con gli highlights siamo al terzo minuto di gioco subito gli ospiti pericolosi con questa azione di Spaviero che conclude la distanza ravvicinata ma è abile Piretro a deviare ancora il Sant'Angelo qualche minuto più tardi siamo alla mezz'ora con il capitano Bugno sinistro di poco alato la risposta della San Maurese non si fa attendere due minuti dopo siamo al 32esimo il tiro cross insidioso di Masini che si spegne sul fondo ancora San Maurese al 45esimo discesa sulla destra di Berardi che guarda in mezzo tutto solo arriva Maltoni ma sbaglia il tempo dell'intervento grande chance dunque per la squadra di Martini al termine della prima frazione che ci prova anche nella ripresa sul schema da punizione al 20esimo prima Maggioli un colpo di testa che si spegne sulla fonda e poi al 28esimo direttamente dal calcio piazzato con Berardi anche questa conclusione non inquadra lo specchio anche sul calcio d'angolo la San Maurese cerca in vano il gol sempre con l'incornata di Maggioli ma a segnare al 39esimo su un'azione manovrata da Silla è proprio Gobbi l'attaccante del Sant'Angelo che punisce di testa Piretro regala la gioia ai tifosi accorsi dalla Lombardia da Sant'Angelo un gol decisivo perché dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Petraglione decreta la fine del match dopo due risultati utili consecutivi cade la San Maurese al Macrelli decisivo il gol di Gobbi contro il Sant'Angelo finita la rincorsa di San Maurese e United Riccione chiedo proprio a Giancarlo Magrini se è fatta però molto più difficile dopo queste due cadute è possibile ancora credere secondo te ai playoff per queste due squadre? Sicuramente è uno spirito di aggressività per voler arrivare alla fine a giocarsi tutto il bel lavoro che avevamo fatto insomma dispiace un po' sia sicuramente sia i calciatori per un futuro sulla società per il suo lavoro e i tecnici perché hanno lavorato molto bene poi l'episodio che ti gira bene o ti gira male ti castiga e lì bisogna accettarlo perché ci sono state anche delle volte che ti ha dato quello che avevi perso insomma un uovo di Pasqua è andato un po' di traverso alle squadre romagnole ma adesso speriamo nel rush finale e allora proprio ringraziando Giancarlo Magrini per la sua disponibilità mister alla prossima grazie a voi buonanotte e ringraziando anche voi telespettatori per averci seguito rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima ci ritroveremo sempre allo stesso orario alle ore 19 qui su Teleromagna per un'altra puntata di fischio finale vi ringraziamo ancora una volta vi auguriamo una buona pasquetta anche per quanto riguarda domani e un buon proseguimento con i programmi di Teleromagna arrivederci Romagna Sport primo dal 2001 la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti i primi a pubblicare la carriera degli atleti i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna in tutto